E per tre tornate amministrative con due sindaci, vice sindaco, e ho vissuto un gran parte. E mi fa piacere che questa sera ci siano anche dei funzionari del comune, uno l'architetto Galletti era, all'ufficio tecnico avevamo quattro persone, un architetto e tre ingegneri, abbiamo costruito la tangenziale, diverse scuole eccetera, mai dato l'appalto di un aiuola a nessuno fuori, perché io pensavo che se avevamo un ingegnere, se un architetto era più cretino di quelli fuori, e non abbiamo mai pagato parcelle all'esterno, che faceva appunto, ci sono oltre, e anche l'onorevole Noci che voglio ringraziarlo perché da Crema, è venuto fino da Crema per salutarmi, Noci è stato sottosegretario al governo, allora tenti di non fare, ma è un vecchio compagno socialista, anche se oggi a ricordare il compagno socialista un po' difficile, ma io però lo ricordo sempre come la figlia del sindaco Rossini, che è più presente, che sta a casa.